All'assalto della capolista, all'assalto del primo posto, per diventare noi i protagonisti, per diventare noi, la squadra da batter, kick-off, si parte, ancora Righini, in area di rigore, calcia! La manona di Massimo Zappino, salva il Frosinone, controlla Frara, Intercross, cross che arriva, palla per Daniel Ciofani! Daniel Ciofani! Daniel Ciofani! Frosinone 1, Ponte Vera 0, ha segnato, finalmente il bomber, Daniel Ciofani. Russo anticipato, atto per in area di rigore, casa Antobelli! Daniele Antobelli! Daniele Antobelli, 2 a 0, Frosinone. Soddimo va in mezzo, la parapassa! Ha segnato a Davis Curiale, Frosinone 3, Ponte Vera 0. Curiale riesce a passare in qualche modo, ancora Curiale, messo giù, calcio di rigore per il Frosinone. Soddimo, breve rincorsa, va con il destro! Frosinone 4, Ponte Vera 0, un apoteosi al Matusa. Ciofani, che chiama ancora Curiale, 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 Curiale! 5 a 0 del Frosinone, la manita al Matusa, la doppietta di Davis Curiale. Cesaretti contro Grassi, che è andato in porta, va Cesaretti con il destro! Oh, palla fuori, no! È finita al Matusa, il Frosinone domina il Ponte Vera!